La terza volta di Zeeman sulla panchina della Pescara a distanza di 5 anni esatti dall'esonero del 2018. 4 marzo come allora, 4-3-3, tre pali il rientro di Plizzari, terzio-sinistro Milani preferito a Crescenza, centrocampo il Boemo rilancia Palmiero, Mezzali, Alloi e Mora davanti, torna a titolare l'escano ai lati Merola e De Sogus. Juve Stabia in piena crisi con il nuovo allenatore Pokesci, un punto e quattro sconfitte, l'ex allenatore della Ternara vara una rivoluzione a cominciare dal sistema di gioco. 4-3-3, tre pali l'esperto russo e non Barosi, Maselli preferito a Luca Berardocco, Montesilvanese Doc cresciuto nel Delfino davanti, Bentivegna ed Agostino a supporto di Pandolfi, queste le immagini, inizio partita, l'arbitro Zanotti della sezione di Rimini. Ci prova il numero 10, Bentivegna, che era un po' una delle novità, l'undici titolare schierato da Pokesci, da Juve Stabia, la palla viene alzata oltre la traversa dal portiere Plizzari, poi c'è questo tentativo ancora della Juve Stabia con Pandolfi, Pasticcio da parte di difensore del Pescara all'atto di pulire l'aria e il pallone che viene giocato per Altobelli, che alza la mira da posizione direi molto favorevole, però insomma brivido per i biancazzurri, intanto il Pescara perde palla in attacco, ci sono le proteste da parte dei giocatori della squadra di Zeman, poi ancora vediamo infatti Mora, questo è il replay, probabilmente c'erano gli estremi del calcio di punizione, l'arbitro invece ha lasciato proseguire, questo è il gol del Pescara, De Sogus per Mora che attacca la profondità, poi attende il piazzamento dei compagni, l'assist è perfetto per Lescano, letale, Facundo Lescano, classe 96, il decimo gol in questa stagione, siamo al minuto 42 nel corso del primo tempo Pescara in vantaggio, però insomma si vede già qualche rudimento, diciamo così, del calcio zemaniano, pochi giorni per carità, però si è visto l'attacco dello spazio, la profondità di Mora che poi fa il resto con un grande assist, il colpo di testa di Lescano che va a centrare quasi l'incrocio dei pali alla sinistra di Russo, oggi Russo classe 87 preferito a Barosi, il portiere titolare, siamo all'inizio del secondo tempo, spunto di Merola anche in questo caso, assist da parte di Merola però per Lescano, bravissimo, controllo e destro che praticamente lascia, che sorprende, sorprende il portiere della Juve Stabia Russo, quasi spiazzato nel stesso difensore Campano, rivediamo l'azione di Merola, molto bravo nella circostanza, nello stretto, poi l'attacco a liberare Lescano, tutto solo il controllo, il destro sul primo palo, nulla a fare, ripetiamo per l'estremo difensore Russo, 2 a 0 dopo 25 secondi, 30 secondi, dall'inizio della ripresa esulta la curva nord, sembra fatta ma così non è perché comincia a scricchiolare lì dietro, il Pescara si apre troppo ma sappiamo com'è il calcio zemaniano, intanto una diagonale, una diagonale di Milani, bravo nella circostanza, anche se ci sono state le proteste di Altobelli per un presunto fallo con il braccio che a nostro avviso non c'è. Il Pescara però continua ad attaccare, è una partita, ripetiamo, apertissima, c'è questo gran destro di Palmiero servito da Cancellotti, la palla simile di pochissimo, la destra è una porta difesa da Russo con Palmiero che naturalmente reclama un calcio d'angolo, l'arbitro non accorda, c'è anche la sostituzione tra Silipo nella Juve Stabia, Silipo che si mette subito in evidenza, siamo al minuto 71, scambia con Pandolfi il suo sinistro, nulla da fare per plizzare, gran sinistro di Andrea Silipo, classe 2001, cresciuto nella Roma, di proprietà del Palermo in prestito dalla Palermo appunto la Juve Stabia, lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie C con la squadra di Baldini, un giocatore di grande qualità, è entrato proprio in corso d'opera, il tutto per tutto tenta il tecnico della Juve Stabia, Sandro Pokesci, con quattro attaccati, è entrato anche Zigoni dall'inizio del secondo tempo, 2-1, tutto, non dico da rifare, però insomma il Pescara continua a creare anche opportunità, come in questo caso con il tiro di Aloy non riesce a indirizzare in porta Facundo Lescano e poi il gol del 2-2 dopo un minuto, al minuto 73 per essere ancora più precisi, l'errore di Boben, senza alcun dubbio, insomma c'è una situazione in cui il Pescara ha fatto male qui con la conclusione di Zigoni, fa quel che può plizzare e poi a porta vuota il tap-in dello stesso Zigoni, entrato all'inizio della ripresa, quindi 2-2 al minuto 73 per Zigoni e il terzo gol in questa stagione, figlio di Gianfranco Zigoni, ex attaccante di Juve Roma e Verona. Vediamo poi sempre nel secondo tempo, nei minuti finali, il grandestro di Pandolfi, classe 98, che colpisce, timbra l'incrocio dei pali a sinistra di Pizzari, dunque ad un passo dal 3-2 la Juve Stabia, ma al 91esimo sugli sviluppi di questo calcio d'angolo viene annullato, un gol che sembra regolare a Merola, probabilmente per un fallo di mani dello stesso giocatore, così diranno i protagonisti a fine match, addirittura il tecnico della Juve Stabia Pokesci parla di un fallo di Merola ai danni di Altobelli, il guardaline rimane fermo, mi pare, il secondo assistente, poi l'arbitro concede, assegna il calcio di punizione alla formazione campana, dunque tutto reso mano dal fischio del direttore di gara, il signor Zanotti della sezione di Rimini, tutto questo al 91esimo, attenzione quasi all'ultimo respiro, Pandolfi scatenato il migliore della squadra campana, prova con questo a solo la sfera termina di poco lato, deviata però da un giocatore dalle Pescara, sono 5 i minuti di recupero, non accadrà altro, finisce dunque 2-2 tra Pescara e Juve Stabia, Pescara ha sprecato tanto.